La Valvenosta è la vallata altoatesina interessata maggiormente dall'anticipo della fioritura anche nel settore dell'agricoltura. In deroga a quanto previsto dalla normativa provinciale, il governatore altoatesino ha firmato il nulla osta all'utilizzo anticipato delle risorse idriche rispetto al calendario tradizionale, soprattutto per quello che riguarda la prevenzione alle gelate notturne. Già adesso siamo in piena fioritura, normalmente solo verso il 15-18 di aprile e così anche i consorzi di irrigazione hanno detto che proprio adesso avrebbero bisogno di fare eventualmente irrigazioni anti-brina eccetera, perché potrebbe tornare ancora il cielo e inoltre manca anche un po' l'umidità eccetera. E per questo motivo loro hanno detto, tu Presidente hai la possibilità di dichiarare l'emergenza d'acqua per certi periodi e tu questo adesso potreste fare. Noi avremo bisogno di poter irrigare immediatamente e non aspettare il 15 di aprile o il 1 di maggio come previsto dai vari decreti di concessione. Io questo oggi l'ho firmato e così loro possono irrigare a partire da oggi. Entro tre settimane verranno raccolti i pareri giuridici riguardanti tutte le società in house provinciali che forniscono servizi di interesse pubblico. Lo ha annunciato il Presidente Donovalder specificando che solo in un secondo tempo verrà chiarito se i servizi dovranno essere assegnati tramite una gara d'appalto. Tutto questo per rispettare le indicazioni a livello nazionale e comunitario. Noi abbiamo 5-6 casi in house cioè dove abbiamo una società propria per fare certi servizi. Se io prendo il libro fondiario o anche se penso al Catasto, se penso al BLS, se penso anche a informatica eccetera. Cioè dove noi diciamo che noi possiamo fare questi lavori che sono necessari per l'amministrazione pubblica in proprio senza fare gare. Questo fino adesso è andato bene perché proprio per questo motivo abbiamo fondato queste società. Adesso però dice Porussell e anche Monti voi dovete fare appalti, dovete fare gare in tutti quei casi dove anche un privato potrebbe essere interessato. Dove anche un privato può fare questi lavori. Questo non vale per esempio per la sanità o non vale per settori delicati eccetera. Però dico diciamo per questi lavori, come ho detto, per esempio informatica potrebbe essere possibile che lo faccia anche un privato. E perciò quando scadono questi contratti per queste società in house noi dobbiamo fare gare e possono partecipare, sì anche le nostre società però possono partecipare anche queste esterne e loro possono poi vedere o possono presentare delle offerte. Se quelle lì sono più favorevoli allora possono prendere anche loro questa gestione. Con due momenti pubblici a Roma e a Vienna la giunta provinciale intende celebrare l'autonomia a 40 anni dal nuovo statuto e a 20 anni dalla consegna all'ONU della quietanza liberatoria. Quest'ultimo evento è al centro della manifestazione in programma il prossimo 19 giugno al Parlamento di Vienna. Si parlerà dei futuri sviluppi in direzione Euregio. Per questo tra i relatori figureranno oltre al presidente Duono Valder anche i governatori Günther Platter e Lorenzo Dell'Ai. Euregio Vittorio.